Nei sacerdoti giovani vedo la giovinezza della Chiesa e l'invito a vivere la vita sacerdotale guardando in alto e pensando in grande. Così Papa Francesco nell'udienza ai partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per il Clero, impegnata al servizio dei sacerdoti e della loro formazione. Ricordando la promulgazione l'8 dicembre scorso della nuova Ratio Fundamentalis per la formazione dei presbiteri, il Papa si è soffermato sulla missione dei giovani preti, chiedendo a parrocevescovi di incoraggiarli e stare loro vicini. Non sono solo dei ricambi per riempire posti vuoti. Posti vuoti. Non riempire quei posti con gente che non è stata chiamata dal Signore. Non prendere da qualsiasi parte. Esaminare bene la vocazione di un giovane, l'autenticità. E si viene per rifugiarsi o perché sente la chiamata del Signore. ricevere soltanto perché abbiamo bisogno, cari fratelli vescovi, questo è una ipotecca per la Chiesa. Secondo, non lasciarli da soli, la vicinanza. Ma l'importante è che quel prete sentirà che ha un padre, un padre vicino, cioè vicinanza. Vicinanza ai preti. Non si può governare una diocesi senza vicinanza. Non si può far crescere e santificare un sacerdote senza la vicinanza paternale del vescovo. Ai giovani preti, Papa Francesco ha poi indicato tre atteggiamenti per una buona vita sacerdotale. Innanzitutto pregare senza stancarsi, trovare il tempo di fermarsi ed ascoltare la parola e sostare davanti al tabernacolo. Poi camminare sempre perché un prete non è mai arrivato e deve aggiornarsi sempre, restando aperto alle sorprese di Dio. I giovani preti possono essere creativi nell'evangelizzazione, ha spiegato il Pontefice, frequentando con discernimento i nuovi luoghi della comunicazione, dove incontrare volti, storie e domande delle persone. Infine, condividere con il cuore, spendendo tempo e ascolto per sanare le ferite degli altri, offrendo a tutti la tenerezza del padre. Per esperienza personale, i novelli sacerdoti, ha ricordato il Pontefice, possono vivere questa condivisione con i giovani e i ragazzi, stando in mezzo a loro, non solo come un amico, ma come chi sa condividere con il cuore la loro vita, ascoltare le loro domande. I giovani non hanno bisogno di un professionista del sacro o di un eroe, che dall'alto e dall'esterno risponda ai loro interrogativi, e si sono attratti piuttosto da chi sa coinvolgersi sinceramente nella loro vita.